Buongiorno da Edo, vi ricordate di Teatre d'Opera Spatial, che non si pronuncerà così, ma non si scriverà neanche così, quindi ha sbagliato l'autore? Comunque è un'opera, un'opera d'arte creata dall'AI. Per chi ha il video a disposizione di questo podcast, glielo faccio vedere. E vi ricordo che il video si può trovare sia su YouTube che su Spotify, con questa innovazione incredibile dei podcast video su Spotify, quindi vabbè, lo potrete vedere dove vi pare. Ma insomma, questa opera, che ora sto proiettando a schermo, è un'opera generata da Majorney, da un artista che si chiama Jason Allen, che l'ha presentata a un concorso d'arte, la Colorado State Fair, e ha vinto il primo premio, è stato premiato. Poi dopo ha appunto annunciato che l'opera era stata generata da un AI, quindi da Majorney, polemiche, eccetera, eccetera. La notizia però di oggi, in realtà, è che per questa opera il signor Allen ha chiesto il copyright e gli è stato negato. Quindi l'ufficio del copyright degli Stati Uniti ha negato la registrazione del copyright su quest'opera. Perché? Perché non c'è sufficiente intervento umano, cioè è stata generata da un'intelligenza artificiale, dice l'ufficio delle registrazioni, e quindi non può essere soggetta a copyright. Naturalmente Allen ha replicato che sì, se lo aspettava, ma che potenzialmente questa è una decisione abbastanza pericolosa, perché apre la strada a altre pericolose deviazioni in futuro. Ed è effettivamente un problema. Tra l'altro se lui non avesse detto che questa opera è stata generata da un AI, probabilmente nessuno avrebbe potuto scoprirlo, perché, come ha confermato anche OpenAI recentemente, i tool che cercano di scoprire se è un oggetto, se è un artefatto, in questo caso si riferiva al testo, ma in realtà anche alle immagini. Ecco, quindi se un prodotto è stato derivato da una AI generativa, è molto complicato, probabilmente non funzionano. I tool che oggi asseriscono di poter identificare automaticamente un'opera derivata da una AI generativa, non funzionano in realtà. Quindi nessuno se ne sarebbe accorto. Però è interessante pensare al discorso del copyright, a quanto sia in realtà abbastanza infantile e stupido il sistema del copyright moderno che ancora si poggia sulle stesse basi su cui si sarebbe poggiato duemila anni fa. Cioè una persona che con uno scalpello probabilmente crea qualcosa con le sue mani e quella cosa, essendo creata da lui in quel momento, è unica e irripetibile, almeno in quell'esatta forma, e quindi quello rimane suo per tutta l'eternità e nessun altro potrà riprodurla o farci delle opere derivate. Ecco, mentre usando dei tool automatici questa cosa decade, anche se lo stesso Allen ha affermato che c'è stato un grande lavoro dietro questa opera, perché la generazione dei prompt per mid-journey ha portato via un sacco di tempo, gli ha fatto centinaia di tentativi, poi dopo ha ritoccato a mano alcune parti, poi dopo ha fatto upscaling varie volte con altri tool, insomma, c'è un certo lavoro manuale. Ma siccome questo lavoro manuale è aiutato da del software, qualunque sia il tipo di software, ecco che l'ufficio del copyright ha rigettato questa dichiesta. Questo ci pone delle domande, no? Quanto ammontare di lavoro fisico umano deve esserci dietro un'opera per poter essere considerata un'opera originale degna di essere registrata come copyright? È un problema, no? Riguarda per qualunque tipo di opera, anche per il codice che scriviamo. E vabbè, vi butto lì questa cosa, ma non vi tedio oltre. Andiamo con le news di oggi. In realtà cercherò di essere veloce, perché ho promesso che sarò veloce, quindi cercherò di farlo. Oggi vi presento, e anzi vi ripresento, Mojo, che è un linguaggio di programmazione. Perché dico vi ripresento? Perché avevo già parlato di Mojo in occasione del suo primo lancio, che era avvenuto il 2 maggio di quest'anno. E che cos'è Mojo? Mojo è un superset di Python. Quindi va a sopperire ad alcune delle mancanze fondamentali di Python, che sono soprattutto nelle performance. Sapete che Python è praticamente oggi il linguaggio d'eccellenza per l'AI, appunto, per l'intelligenza artificiale. Quindi il grosso problema di Python è la sua lentezza, data da vari fattori naturalmente. Uno di questi, per esempio, è il fatto di non avere dei tipi statici, è tipato dinamicamente. Ebbene, Mojo va a sopperire a questa mancanza e in più fornisce una serie di compilatori per, appunto, questo linguaggio, che creano dei binari che sono estremamente ottimizzati, tra l'altro con la funzione di autotune, che si va a configurare automaticamente per l'hardware target della compilazione. Insomma, crea dei binari molto piccoli e molto veloci e molto ottimizzati, che tra l'altro vanno a sfruttare proprio le chiamate delle GPU specifiche, per cui viene ottimizzato, per esempio, il CUDA. Insomma, tutta una serie di istruzioni specifiche che ne innalzano le prestazioni notevolmente. E è una cosa seria, molto seria, perché dietro a Mojo, cioè il creatore di Mojo, è questo signore qui, che è Chris Lettner. E Chris Lettner è quello che ha creato il linguaggio di programmazione Swift e poi la compiler toolchain, ecco, LLVM, che dovreste ormai conoscere. Quindi qualcuno che ne sa abbastanza di compilatori e di ottimizzazione delle performance. Bene, dicevo che Mojo, da qualche giorno, è disponibile per il download. Ecco, si può scaricare l'SDK e non solo l'SDK, si possono scaricare anche l'estensione per VS Code, l'estensione ufficiale la trovate sul Marketplace di VS Code, e anche la command line, la REPL, ecco, l'eseguibile, per poter lanciare appunto gli script Mojo direttamente in console. E poi arriveranno in futuro, a breve, anche dei tool per fare il debugging di questo codice. Quindi, se ricapitoliamo un po' le feature fondamentali di Mojo, ecco, se voi conoscete Python, passare a Mojo è abbastanza, dovrebbe essere abbastanza semplice, perché comunque Mojo è 100% compatibile con Python, essendone un superset, no? Pensatela un po' come TypeScript su JavaScript, no? Quindi tutte le linee di codice Python sono compatibili con Mojo. Cioè, voi potete prendere un file Python, 100% Python, farlo compilare al compilatore di Mojo, vi esce un compilato eseguibile tranquillamente. Però in più delle istruzioni nuove, che sono estremamente più performanti rispetto a Python. Addirittura si parla di un incremento fino a 68.000 volte le performance di Python, insomma. Però tutte queste cose più tecniche vi invito a leggerle intanto sul blog ufficiale di Modular, che è l'azienda che sta dietro a questo linguaggio. E se volete, anche la puntata che feci io a maggio, appunto, quando uscì l'annuncio di Mojo, dove vado un po' più nel dettaglio. Quindi, avete un unico linguaggio, Mojo appunto, dove potete scrivere tutte queste cose ottimizzate, soprattutto se venite da Python, e quindi avete le ottimizzazioni per le CPU e per le GPU e per i CUDA Core, insomma. E poi, essendo un superset di Python, una cosa che non ho detto, è compatibile con tutto l'ecosistema di Python. Quindi i pacchetti e i moduli già esistenti per Python, per esempio NumPy e Matplotlib, altri pacchetti, sono compatibili anche con Mojo. Quindi l'esistente ecosistema che magari già usate sulle vostre app è già disponibile per Python. Poi, naturalmente, si parla delle performance e si parla, ecco, di quello che arriva oggi se vi scaricate i tool e le SDK da Mojo. Avete Mojo Driver, che è appunto questa shell, questa command line, che vi permette di lanciare come Rappel il vostro codice Mojo. Poi avete l'estensione per VS Code. E poi avete la compatibilità con i Jupyter Kernel. Sapete che sono dei notebook, ecco, delle virtual machine, che potete accedere online, che sono ottimizzate per il machine learning. Ebbene, Mojo ha tutta una serie di ottimizzazioni per i Jupyter Kernel, per i Jupyter Notebook, e quindi potete già usarlo in questo senso. E poi arriverà, come dice l'annuncio ufficiale, il supporto per il debugging. Al momento l'SDK è supportato soltanto da Linux, dalle macchine Linux X86, ma arriveranno altri sistemi operativi. Il blog post su Modular va poi nel dettaglio su cosa sono questi vari oggetti che vi abbiamo detto. Vi faccio vedere soltanto un po' di codice, ecco. Vedete che se siete familiari con Python, per chi sta guardando, se siete familiari con Python, è praticamente molto simile, no? Si può passare rapidamente da un linguaggio all'altro. Una cosa che salta subito all'occhio è che è tipizzato, no? Ci sono i tipi. Si possono anche non usare, però ci sono e naturalmente velocizzano parecchio anche il lavoro di ottimizzazione del compilatore. E poi ci sono vari altri dettagli che vi invito a guardare sul blog post. Quindi, questo era Mojo e secondo me vale proprio la pena di seguire questo progetto. Sapete che l'Unione Europea ha delle leggi piuttosto precise e stringenti sulla gestione dei dati online e quindi prevede che i dati dei cittadini dell'Unione rimangano nei territori dell'Unione Europea stessa, quindi sui data center dell'Unione Europea, in server fisicamente presenti nell'Unione Europea. E quindi tutte le grandi compagnie, in realtà tutti i siti, ma soprattutto ovviamente le grandi compagnie che manipolano i dati, detengono i dati, devono conformarsi e spostare i loro dati sul territorio dell'Unione Europea. Una delle ultime notizie in questo senso arriva da TikTok, che sapete essere una compagnia di provenienza cinese, ecco, posseduta da ByteDance, che in realtà si è un po' slegata dal governo cinese, dalla Repubblica Cinese, però rimane comunque di quella provenienza. Ebbene, arriva la notizia che TikTok ha iniziato ad aprire data center nel territorio dell'Unione Europea, iniziando dall'Irlanda, uno, potevamo aspettarcelo, e ne aprirà altri due, uno in Norvegia e un altro in Irlanda. Quindi due in Irlanda e uno in Norvegia. Naturalmente questo fa parte dell'insieme di obblighi che l'Unione Europea ha imposto a queste grosse aziende, insieme tra l'altro di obblighi anche parte del Digital Services Act, tra cui peraltro quello di fornire ai cittadini dell'Unione l'opzione di fare a meno dell'algoritmo di raccomandazione di contenuti. Quindi TikTok offre anche la possibilità di non usare l'algoritmo ai cittadini dell'Unione Europea. L'iniziativa di TikTok per spostare i dati nell'Unione Europea si chiama Project Clover e segue un'altra iniziativa simile che c'è negli Stati Uniti, che si chiama Project Texas. Quindi anche gli Stati Uniti naturalmente richiedono a TikTok di tenere i dati lì sul loro territorio, così che siano più facilmente accessibili, diciamo, in caso di controversie. Ricordiamo anche che TikTok è stato messo al bando da molte istituzioni globali negli Stati Uniti, soprattutto nel Montana dal 2024 sarà proprio bannato completamente come app, ma nelle istituzioni sarà più bannato che mai. E in Europa, ecco, lo staff della Commissione Europea non può installare TikTok sui device, diciamo, istituzionali, aziendali. Quindi è molto strettamente osservato, diciamo così. Ecco, in chiusura vi ricorderete che l'anno scorso abbiamo parlato molto degli attacchi a LastPass, in particolare di due grossi eventi, uno ad agosto 2022 e uno a novembre, collegati perché con l'attacco di agosto pare che gli attaccanti avessero ottenuto delle chiavi che poi hanno usato per attaccare a novembre i cloud service di LastPass, dove poi hanno avuto accesso ai Volt oppure ai backup dei Volt. Non si è ben capito, i Volt sono proprio gli asset dove ci sono le password decrittate. Ecco, e quindi sono riusciti poi a scaricare questi Volt. Poi LastPass aveva un po' cercato di rassicurare perché comunque i Volt erano difficilmente decrittabili, quindi anche avendo i Volt difficilmente gli attaccanti sarebbero riusciti a aprirli, a leggerli in chiaro e quindi decodificarli e a tirar via le password, le note ed altre cose salvate in questi Volt. Ebbene però si è scoperto che andando a analizzare alcuni attacchi, anzi alcuni furti avvenuti nell'ecosistema delle criptovalute, quindi alcuni wallet che erano stati rubati alla fine del 2022, si è scoperto che molte delle vittime di questi furti, che si parla di 35 milioni di dollari in criptovalute in totale, ecco molte delle vittime avevano salvato il seed phrase, quindi diciamo la frase di accesso a questi wallet proprio nei loro account LastPass e quindi unendo un po' i puntini dei ricercatori di sicurezza hanno capito, hanno scoperto, ma diciamo che è molto probabile, non è sicuro, ma è molto probabile che gli attaccanti abbiano estratto le chiavi di accesso ai wallet proprio dai Volt di LastPass. Quindi ecco trovate l'articolo completo con l'approfondimento su The Verge e ancora una volta, chi aveva l'account LastPass nel 2022 è probabilmente stato oggetto di questo data breach e quindi l'invito assolutamente è di cambiare tutte le password, tutte le note, qualunque cosa contenuta in cui vuolta e da considerarsi assolutamente insicuro. Quindi cambiate tutto, è una nota riportata dagli stessi investigatori di Cyber Security che hanno portato avanti questo report. Aggiungo a questo fatto frizzante sull'ecrypto che un signore in Turchia ha appena ricevuto una sentenza piuttosto pesante per aver fatto un cosiddetto rug pull, cioè quella mossa di scappare con i soldi dei wallet dei clienti del crypto exchange che lui manteneva. Sto parlando di Farouk Fatih Ozer, o Ozer, sbaglierò tutti gli accenti, che era appunto il fondatore e il CEO di Thodex, che è un crypto exchange che era molto popolare in Turchia, bene, ha ricevuto una sentenza di 11.196 anni per essere scappato con i soldi. Dopo che Thodex, che era stato fondato nel 2017, aveva avuto un periodo di grande notorietà anche a causa dell'inflazione della lira turca, bene, a un certo punto le cose si erano messe male, Thodex l'ha collassato nel 2021 e lui, il signor Ozer, se n'è scappato con un bel po' di soldi. Poi la polizia turca l'ha arrestato in Albania, l'ha portato in prigione, ha scoperto che aveva spostato più di 125 milioni di dollari in un exchange negli Stati Uniti, ebbene adesso è arrivata la sentenza di questi 11.000 anni di prigione per il signor Ozer e anche i membri della sua famiglia e lui ha dichiarato alla corte, ha fatto questa dichiarazione, io sono sufficientemente intelligente da guidare qualunque istituzione sulla terra. Questo è evidente dalla compagnia che ho creato a soli 22 anni. Se fosse stata una organizzazione criminale, non avrei agito così, in modo così amatoriale. Quindi insomma una grande considerazione di sé per il signor Ozer, considerazione che forse gli tornerà utile quando uscirà di prigione all'età di circa 12.000 anni, e vabbè ovviamente non si festeggia mai per qualcuno che purtroppo ha buttato così la sua vita, era veramente giovanissimo, e ora si ritrova in prigione per sempre, secondo le leggi turche. Beh insomma questa dichiarazione mi ha fatto un pochino sorridere, quindi ve la volevo riportare. E queste erano le mie dichiarazioni per oggi, ho finito la puntata, solo due cosine, due annuncini. Il prossimo martedì 19 settembre alle 17, torna in live Continuous Delivery, il nostro grandissimo podcastone fatto con Spark Fabric, avremo un ospite, saremo live dallo studio, arriveranno le informazioni più dettagliate nelle prossime ore, nei prossimi giorni, insomma se seguite i canali di Spark Fabric o i miei, insomma intercetterete cosa succederà martedì e poi da mercoledì proprio verrà pubblicato in podcast e ritorneremo a cadenza abbastanza regolare con qualche novità. E poi non questo weekend ma il prossimo, quindi 23-24 settembre, sarò a Pignola, che è un paesino in provincia di Potenza, per il Come to Code. Come to Code è una conferenza dedicata al tech, alla programmazione ovviamente, come dice il nome, e porterò un talk, quindi parlerò di un po' di framework JavaScript front-end e ci saranno un sacco di altri speaker in gambissima, un sacco di gente anche figa, perché la community è proprio bellina, quindi se siete nei paraggi o magari riuscite a portarvi fino a Potenza, anche se non è semplicissima da raggiungere, devo ammettere, però il posto è molto bello, quindi magari se siete lì in zona, ci becchiamo lì. Ho finito, davvero, fate bravi, alla prossima, ciao. Grazie a tutti.